Si aprono anche le autoscuole, ricominciano sia l'attività didattica sia gli esami per la patente. Una buona notizia certo per le 7.000 autoscuole, i quasi 30.000 collaboratori dipendenti e per gli oltre 300.000 candidati in attesa di sostenere gli esami. Ma la ripresa avviene con una novità che rivoluziona la prova dovuta alla necessità sanitaria del distanziamento fisico. La buona notizia dunque è subito intercettata da un problema. I titolari sono ancora in attesa delle linee guida per quanto riguarda la didattica e non c'è ancora una data certa per l'inizio degli esami. Tra le novità, presenza del solo candidato sull'auto per una parte della prova d'esame di guida, delle patenti B. Le richieste verranno formulate oralmente dall'esaminatore ed il candidato risponderà all'interno del veicolo ed effettuerà le manovre richieste. Queste fasi verranno svolte in un'area attrezzata e recintata. Nella fase in cui l'auto verrà condivisa, il candidato, l'istruttore e l'esaminatore dovranno indossare una maschera filtrante, visiera, occhiali protettivi, guanti monouso e devono lavarsi o igienizzarsi le mani prima di entrare nell'auto.